Oh ma l'altro giorno ragazzi non stavo per far la cazzata Non mi sono messo dentro al coso che usano i disabili al supermercato La macchinina quella per andare Volevo andare con quello ma l'hanno fatta prendere però Ma maestro ma non lo usa mia nonna che si è rotta il femmine lo usi tu Ma è bellissimo mi facevo tutta la drogocorsa nel continente Allora quindi lo ridico se uno prende danno tutti prendono danno maestro Quindi è importante che tu lo prendi Aspetta che uno di voi sta senza cibo e prendo fall damage No maestro non si fa così quindi perché ho scelto di fare questa cosa con noi tre Perché Lollo sa giocare io so giocare e il maestro sa giocare Allora ragazzi volete un po' di grano da mangiare l'ho rubato al villaggio Bro cos'era sto rumore Non toccate la campana Perché c'è un napoletano Perché non ci dovrebbe essere Ma perché in minecraft non è caserta Allora maestro ti sto facendo le cose io visto che tu non hai imparato niente No le sto facendo Che cosa stai facendo? Il come cazzo si chiama? La crafting table Guarda qui su e qui su Ricordati di prendere i blocchi Madonna Non prendere il coso Gesù Cristo addio Lollo ammazza tipo due mucche Due maiali Due cosi Faccio il golem bro Che riesci a farlo Sì non è facile per me È facile infatti Tranquillo Maestro sto per morire No ma che moriamo tutti oh Maestro sto morendo Ragazzi tempo un attimo Ma sto cattino? Troppo facile per me Bro Bro il golem Il golem sta buildando bro No 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 Ma che cazzo No Vabbè ma sei minuti un attimo così Pecora del cazzo Rubare i letti Rubiamo letti? Rubare i letti Ma non puoi rubare i napoletani bro Che cosa vorresti dire con questa battuta Veramente discriminante Scusa No perché alcuni villager hanno il dieci dietro Altri no Non è che tutti possono essere maradona Lo dovete vedere Aspetta arrivo No ma perché lui non ha Sali coi blocchi Guardalo Guardalo Ma questo lo ho smarco Sto troppo più forte Ah sì Ho vinto contro Nezac Non potrò mai perdere contro di questo a Forn No sta traspolando No Qui ti è stuttata Madonna Adesso per favore Poi non perdere Perché? Non ho fatto niente Odio bravo il maiale Mi ha ricordato di prendere Ma ragazzi Guardalo Guardalo Non ci credo bro Ragazzi ma cosa sta facendo Cosa sta succedendo Non ti è caduto Guardalo The real Oh lascia fa Ah questa è nuova che fa le castate Ragazzi Ragazzi Che cosa è successo È nuova che fa le finte Ma tanto nuova Stai tranquillo Che io scoprirò chi sei e dove abiti Il maestro che giù tipo a livello della pedro Tu non preoccuparti Il primo che trova una caverna Si riunisce con gli altri Già ho trovato del ferro Quindi sto già avanti anni luce Io c'ho un creeper dietro No Chi è sto pezzo di merda? Zombie grons Che cos'è? Sarebbe Cretion rattles Vuol dire che c'è una caverna vicino a me Ah la Ok C'è il dungeon per caso Che lì magari troviamo qualcosa di buono Dovete parlare l'italiano Ma sono vicinissimo Mi sto perdendo Ma dove cazzo andate? Ma adesso sto facendo tutto io Ma che cazzo stai facendo? Mi devi fare nervosire a me Che mi agito eh Vabbè Porca troglia Dai un coppino su Sì qua sotto Sì qua sotto Ok Tu però mi devi prendere Mi devi prendere Io ti caito con un bazooka Lo capisci? Adesso non stai facendo niente E non aspetto altro Oh vi ringrazio che non trovavo la strada Dov'è il warden? Non lo so lo sento Ma è dentro alle mura Ma fa il suono di un maiale ora Ragazzi Ragazzi Per quale ragione? Non scappa Lollo No Scappa Mi stanno sparando il letto Mi hanno scopato No Chi è che ha spaccato il letto? Maestro che cosa hai fatto? No Scusami puoi ripetere? Se io sto mettendo del ferro a cuocere no? E sto prendendo delle cose da mangiare Attorno a me diventa tutto blue marine Togliendosi così ogni cesta Ogni fornace Ogni letto Sulla piattaforma E il materiale E c'è a me circostante Mi spieghi come mai la colpa Deve essere la mia? Ah sono diventato J-Tots Ma ok Perfetto Madonna No Facci la toccata No Il totale è stato completato Non C'è scendi Veloce scendi No Non da solo Non E ma dov'è la barca? No Ma tu sei fuori di testa Maestro deve lasciare giù la barca Senti con me E sali con me Non faccio il bocca No No Che c'è che mi ha buttato giù? Questo che cosa hai fatto? No ragazzi niente io eh però Ho perso anche tutto Tu sei veramente quei tarzanelli nella testa Allora Lollo Tieni Prendi questa barca e buttati giù Da solo? E mi siete citati in stream Regà Lo capisco Tu ad esempio Lollo Tu sei uno di quelli che usa TikTok Io non sono un grande Affascinatore di TikTok Per tutte Per varie vicissime Ma ti voglio chiedere Com'è la home Di chi effettivamente Utilizza TikTok? Perché io c'ho solo mignote È strano che ti escano Dovrebbero uscirti video un po' da normi Sai No a me escono video di Minecraft Videogiochi e Sì ogni tanto Capitano anche a me Ma le schifo di solito Ok No No mi stai laggando Mi sta laggando un attimo raga Per favore Sì e chi è che prende il danno? No No ti ho visto No No mi avete lasciato No 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 mangio io Ragazzi mangio io Voi state fuori dal server Tutte e due Che ho visto uno volarne la lava Che cosa è successo? Il maestro è caduto nella Ragazzi Ragazzi è brutta Non so se la posso salvare No 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 C'è il maialone che ha spulato Di fianco a me No ti prego Non morire No 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 Ci sono Sono scappato Mi piace la porta Chi è? No 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 Possiamo morire No 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 C'è lo scheletro che mi fa Ho sbagliato il tasto Ma che si chiama torcia? Ma come cazzo hai fatto a scendere da qui? Io? Così? Sì No C'è il graffeglio Dice Praticamente ho preso la barca Ti volevo far vedere prima Ma se credo dei due Prova a sparargli la dos Nei morra Vado io? Sai tu ce la fai Ti giuro che se non ce la fa No 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 Oh sono vivo Sono vivo È la quarta volta Lolo Che moriamo per colpa tua Salire con le loro C'è Vado Si la lasci fare Oh 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 Devi fare sempre sto coso qui del botco Ragazzi basta scendere da qui Lolo scendi Guarda qui Lolo Dove? Ah dal laterale? Ragazzi chi è che sta prendendo danno? Oh sei te che sta prendendo danno Perché sei infocato? Perché sei infocato? Ah oh No no dai Ok Ho visto mezzo cuore raga Gianco 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 dai Io sono io Eh la fortezza era lì davanti Ragazzi mi stanno pestando Raga aiuto No no che cosa ti sta succedendo? Oddio aspetta tira 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 lì Attira lì qui E buttiamogli Buttiamogli loro raga Ne abbiamo tre Ma non buttare i blocchi Devi buttare i blocchi No no i blocchi no Sarcofago di merda Mi riscosto Ma che cosa diamine vai a fare? Mi riscosto Quanto dura ancora la fare resistance? Un minuto e venti Oh Vabbè Eh Chi è stato? Lollo Almeno ammetti le tue colpe Ma dopo se la finiamo a 0-0 che è il compleanno E allora lo puoi Incredibile Cioè sembra quasi fatta apposta Oh 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 La cesta raga abbiamo trovato Bru No Oh Oh Cosa 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 C'è una tempesta C'è un creeper nella tempesta Maestro Ah No Allora La domanda che mi sto ponendo è Se dobbiamo andare verso dove il vento mi sta spingendo A me va bene Nova ma se poco poco è al contrario Tu sei un uomo finito Mi sa che ci stiamo No No mi sta ponendo Raga Raga È stato un piacere perché questo è full damage Sì Raga è finita Oh ci sono sopra l'acqua Sono sopra l'acqua Ma io no Oddio sto parlando piano piano Ucciso pure uno Non potevo essere Grazie Ah eccolo là il ciclone Ok No ragazzi ma perché c'è surreal power come luna Scusa Dov'è? Mettete non lo so Mettete il resto dei cosi Siamo pronti No Non abbiamo messo un letto No Stanno spawnando delle bestie demoniache Oh no Oh no Mi stanno distruggendo delle bestie E i guardiani del void mi hanno violentato Ok ne ho fatto uno Mi ho fatto esplodere uno anch'io Buonasera Marzo Ragazzi lo sto chiavando Oh che cazzo fa? Oh no Stanno attaccando Oddio l'ha clappata il maestro Il mostro Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Oddio Ha fatto la Genkidama No No voglio vederla questa Oh No Vado Cosa cacchio è successo? Ha distrutto il pianeta Ok è già andato il maestro Dove l'hai tirata? Qua ragazzi l'ho preso Oddio bravo Eh no mi sa che dobbiamo farlo tutti Ok No No perché va No Ho fatto un po' il coglione ovviamente come ben sai io No ma vabbè dai La mia Sì no la mia knowledge del gioco non mi permetteva sennò di morire mai Considerando la bravura che posseggo Però L'ho presa così un po' sul divertimento Alla prossima